Buongiorno, oggi è la seconda prova dell'Everesting, la prima ascesa, ne dovrei fare cinque, non so se ci riesco o no perché sono affaticato, quello ancora so fresco perché non ho tempo, devo ritornare a casa, vediamo quanto faccio, ne riesco a fare. Eccoci, questa è la seconda ascesa, sono le 11 e 15, ci metto per salire a discesa 27 28 minuti, ne posso fare forse tre, al massimo quattro, vediamo dai, a dopo, ed ecco la terza ascesa, purtroppo già sono le 11 e 45, da mezzo giorno e mezzo deve essere a casa, quindi faccio l'ultima, almeno confermo le ascesa dell'altra volta, so bene, so bene, per niente affaticato, cioè per farvi capire che non era affaticato, ho fatto mezza salita nel sincrotone col 50, non me ne era accorto.